La settimana è stata una settimana diversa dalle altre, abbiamo lavorato, ci stiamo concentrando sul nostro obiettivo, ma c'è sempre qualcosa che sbagliamo, come è successo oggi, una partita che sapevamo quanto era importante, ci tenevamo in particolar modo e purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa. L'impressione è che nel primo tempo comunque abbiate avuto delle importanti occasioni, quindi la squadra è viva e soltanto che poi non si è riuscito a concretizzare, nel secondo tempo il gol forse vi ha un po' tagliato le gambe, però per quello che si è visto nel primo tempo la squadra era più che mai combattiva? Assolutamente, no, no, la squadra ha combattuto per tutta la partita, quando abbiamo subito il gol abbiamo avuto una scossa e comunque ci siamo cadavutati nella parte della squadra avversaria e abbiamo cercato di pareggiare con una bella risposta, è ovvio che il gol non è arrivato, però ce l'ho provato. Ti aspettavi qualcosa di più dei ragazzi a livello di intensità, di aggressività, ti aspettavi quella scossa che insomma rispicava quel cambio? avevo qualcosa di, qualcosina in più, secondo me qualcosina in più c'è stato, ma abbiamo beccato un po' di qualità, ecco specialmente nelle palle importanti, abbiamo avuto qualche occasione ma non l'abbiamo concretizzata. Forse si tira poco, ma questo già prima, non è che da oggi la novità, però l'impressione anche commentando un po' la partita durante la gara, appunto si tiri poco, si cerchi di arrivare troppo a ridosso del portiere, quindi... Assolutamente, è una questione su cui stiamo lavorando, assolutamente, la vostra impressione è questa. Il cambio di modulo invece è solo una prova o pensi di insistere su questo modulo? Guarda, in questa settimana abbiamo lavorato su questo cambio di modulo e anche con una squadra come la loro pensavamo che potesse portare dei buoni frutti. vediamo in settimana, adesso abbiamo 15 giorni per prepararci e per andare a Varese, quindi faremo qualcosa. Sicuramente è una partenza al cambio di modulo, adesso vediamo i frutti, ecco, sicuramente oggi non sono stati i frutti che speravamo. Grazie mister. Grazie a voi.